La voglia di tornare a un po' di normalità approfittando di un evento che è tradizionale per il territorio canavesano ha permesso all'edizione 2022 della Fiera di Sant'Isidoro a Favria di cogliere a pieno nel segno facendo registrare numeri importanti Sia nelle salate del venerdì che del sabato dove la buona tavola e la musica l'hanno fatta da padrone che la domenica dove mercato, mostra zootecnica e battaglia delle Reines hanno riempito la giornata tanto è stata la gente che ha presenziato e ha confermato la bontà dell'evento Un evento targato comune, associazione agricoltori e col diretti che ha riportato la gente all'aria aperta dopo due anni complicati nei giorni che hanno seguito proprio la fine dello stato di emergenza nel territorio italiano Molti gli allevatori presenti e diversi momenti di attrazione e socialità che anche grazie alla piena collaborazione con altre realtà e associazioni favriesi hanno permesso di vivere una manifestazione riuscita a pieno a presto a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.